Si è riempito nuovamente il reparto Covid dell'ospedale civile di Agropoli. Attualmente sono ricoverati quattro cittadini in terapia subintensiva e otto nel reparto diretto dal dottor Gianfranco Glielmi di malattie infettive. La situazione non è delle migliori se si pensa che lo scorso mese di luglio la responsabile del reparto Covid, la dottoressa Rosa Lampasona, aveva tracciato un bilancio della situazione dichiarando che dopo nove mesi di lavoro incessante il reparto speciale si era svuotato completamente. Oggi purtroppo la situazione si è ribaltata. Dei quattro pazienti ricoverati in subintensiva, tre non hanno effettuato il vaccino mentre uno ha completato il ciclo vaccinale. Ma fortunatamente le condizioni di salute sono stabili. Attivo presso il civile di Agropoli anche il centro di somministrazione degli anticorpi monoclonali che in queste settimane ha effettuato la somministrazione delle cure su tre pazienti, oltre alla somministrazione presso la casa albergo di Buccino, dove una ventina di anziani ultra novantenni sono risultati tutti positivi ma con un quadro clinico buono per tutti l'attivazione del protocollo con la terapia monoclonale effettuata dal dottor Lielmi e il suo staff. Anche presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania è arrivata nei giorni scorsi una giovane donna originaria di un piccolo paese del Cilento in condizioni non buone. Purtroppo la donna, dopo il controllo effettuato con il tampone molecolare, è risultata positiva al covid-19. La giovane è in stato interessante alla ventiquattresima settimana di gestazione e attualmente è ricoverata in rianimazione presso il nosocomio vallese, ma si sta provvedendo a trasferirla in una struttura idonea che possa accogliere pazienti positivi in stato interessante.